Ho fatto una ricotta, che non l'avevo vista. Mi sono fatti i peperoni, le tagliate, poi ho fatto il basilico, ho fatto la salata. Stai bello, mi fa tutto praticamente. Ore 19, allora questa qua l'abbiamo già fatta, quindi va là. L'americana, quindi mi servono una pagatina. Ora vai, non nessuno mi ha detto che stavano, erano proprio impregitrici. No, 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 chi vuole, non la vuole la signora. È vero, però c'hai del senso, è vero che l'ha detto. Dunque è vero. No, no, di meno, di meno, già gli ho chiesto. Falle bene. Vedrà a largo. Faccio mai messo, no? Sì, puoi fare tutto. Mi ricordo di dire, ancora qual è il testo? Ho preso quello, ho preso. Chissio diretto? No, no, no. Quello non lo prendo subito, quello lo prendo l'ultimo, sempre. Visto che chiudiamo, Gavi, fammi sapere, prima del buono. Nonno, vado a riguardi gli amanti? Sì. Un po' che manca, inizi a prendere. Ah, un'altra margherita. Finiamo un basilico, consumamolo. Cioè, finiamolo. Oh, ma l'altro basilico è finito proprio? No, non c'è. Ah, ok, perfetto. Molto bene. Ah, vabbè ormai. E' uno spettacolo qui. Posso fare un aiuto? Buonasera. Buonasera. Di te? Sì, da portare? Ok, l'unica cosa, se potete andare ad ordinare la cassa. Ok, accanto al distributore. Ve la facciamo subito. Fai un otto, Mario. Fai un otto, Mario. Fai un otto, Mario. Fai un otto, Mario. Fai un otto. 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 бесatto. Mi stavate dicendo una pizza bianca senza basilico? Vai benissimo. Ok. Olio? Olio? Perfetto. Ci siamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok. Che si richiedono? Che erano giustizioni. Ah, giustizioni. Questo è un trasporto, un'istra bianca, una dita con i crocche. Ma ci dite con i crocche? Ah, sì, la città è libera, io credo. Ah, sì, la città è libera. Città è libera. Città è libera. L'olio. Sì, sì, l'olio. La talliamo. No. Questo è per lei. Certo. A lei, buona serata Ok Aspetta Ok, metti un po' di basilico, qualcuno Pure qua Una pochina centrale, c'è un momento che ci mette la puzzella Non c'è un po' l'arrope Non c'è un po' Aspetta Pagliere il pezzetto 8 kg di mozzarella Ah bello No 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 Perché? Si 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 Ti pi как Sia Dephe Sia Compl thấy Sia 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 Asahi Each vors s Az Che Aspetta, Mario vieni qua con quelle due cose, vieni qua con quelle due cose, appoggiamoci per stasera, quando comunque stasera vado a me lo ha. Aspettate un minuto da qua? No, no, per il momento no, allora, però bravo che me l'hai ricordato, che me l'hai roscurdato. No, comunque, il cotto lo direi giusto? No. Dì il cotto. No, vieni un po' con lo guarda. Ma chi l'ha fatto per l'aria la sera? Ma l'hai mangiato qualcosa? L'abbiamo fatto altre pizze? Ah, ok. Sì, quello è posto, non vi preoccupate, è già arrivato. Maravole. Saturday night. Portalo in qualcosa, non portalo a mano più o qua, per favore. Buongiorno, va benissimo. Vabbè, facciamo a tutti questi due sport, ti avrò che tu una merana e una margherita, e poi ti faccio l'incornata alla quattro. Buongiorno, va benissimo. Ciao. Sì, sì. Io che l'ho strappato, comunque che la vuoi metti, ce la metti. Sì, sono strappato. Che cosa manca? Manca la ricetta. Sì, sono strappato. Sì, sono strappato. Sì, sono strappato. Sì, sono strappato. Aspetta, mi dai l'olio normale, che fuori? Sì, sono strappato. 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 Sì. strappato. Sì, sono 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 strappato. Sì. Sì, sono strappato. Sì. 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 Sì, questa è una Nerano. Sì, lo chiedo, chiedo in caso. No, no, no! Stai in caso o me lo chiedi? Nel senso, per rispondere. A lei! Buona serata! Vai, doppio piatto. Fia, toglie di piazza. Come sei invece l'ingresso? Ehm, non l'ho detto di buca. Questa è il suolo? Una malina margherita. 16. Questa anche è pronta, però aspettiamo un attimo a prenderla. Vai con un altro po' di origano e con un altro po' di all'aglio. E tu che se ne posso? La prossima volta ci diamo con la pizza e forse voglio. Mamma bello! Mario! Tu sei una cosa grande a me! Facciami qua. Non è che lo scambolo per un simbolo satanico. Qualcosa del genere. Due e trischiera, anche se non c'entrava un cazzo di trischiera. Ehm... Dica! Tavolo sì! Di attraverso lui. Dica! 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 si rende russa portate Mario a te esce il tavolo 3 è una margherita, è migliore Vai No andò non ho capito niente Scusa No 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 Ok Buonasera Sarebbero le quattro pizze giusto? De margherite Un'americana e una mimosa Perfetto Dieci minuti Una patatina Donna Carmela Ne hanno metà mortadella Ok Poi la sfiscienza Che gli diamo alle sfiscienza? Altre due o O ne faccio usci due da un'altra Così? Ok Quindi faccio l'ultimo E diciamo io l'ho andato ad Antonio Oh Gabriele Quanto vuoi? Dici ad Antonio che è rimasto una sola sfiscienza Antonio Una sfiscienza? Metà senza mortadella La posso fare l'lissarella? Ehi amore Tavolo sei Perché tu è una pizza Dici tu dieci cucina Mentre lo può fare Che c'è sempre la pizza Ah ok Va benissimo Allora questo me lo sposto un secondo qua Così me lo ricordo Perfetto Allora la facciamo insieme a queste qua Ecco facciamo sasporto tutto quanto insieme Guarda la crocchetta E' un po' di zucchine 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 Sì Te la faccio Ah due me ne pare Sì Ti devi iniziare a pigliare Tu nel frattempo Vieni qua Vieni qua Eh no Ti devi iniziare a pigliare Non lo intendevo sempre in bala Scusami Ti devi iniziare a grado Vai In che senso? Nesso Nessunce Mario a tavolo 15 Che pezzo vuole tavolo 15? Nerano Nerano donna Carmela Nerano donna Carmela Tanti a Due piatti Le hai mixi Nerano donna Carmela Non ho tranquillito Ma fra per favore Non fa mai più una cosa del genere Che cazzo fai? No frate Ma che cazzo fai? Non apprescinde Come un animale Ma fra fettamente Non sa fa un lavato No 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 It's done Ti manca la crocchettona a lava eh Il tavolo 2 te lo chiamo io Il tavolo 2 me lo chiami Su Antonio Vuoi chiamare la margherita? Sì E il tavolo della margherita Il 6 Il 6 Il 6 Tavolo 6 Il tavolo della margherita Nel senso allevare le farine o metterle? Eh Ok Ok Il tavolo della margherita Sì Sì Il tavolo della margherita Il tavolo della margherita E lo chiami Il tavolo della margherita È il tavolo buildings Il tavolozza A presto E addirittura Il tavolozza Il tavolozza Lo scuola Il tavolozza Abb condemna Quindi Pien pietra Non far cambio come città Ok Il tavolozza Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info ma io ci ho fatto un po' di due due stelle e il suo progetto non lo potrei stare solo che ha una parte senza... non lo trovate, non lo trovate e mi chiesto con me sei pronti così, quello l'ho fatto in più per sbagliare ci sono andate a vizzi di qua si, è qua, la crocchiettona vieni qua un attimo mi son cagato sotto sì, per favore non? no, io lo trovo vieni qua dire Grazie a tutti.